popolo juventino e non buongiorno a tutti voglio dire che la mia secondo me quello che accadrà perché dissi appunto che cristiano ronaldo può darsi caribe la juve però dissi anche se vedete il mio video che sul campo alla fine non è quello che serve ma servire da un centrocampista allora tutto questo polverone che salzato io comincio a vedere oltre e sono sicuro che arriverà un pezzo grosso sono sicuro che arriverà anche a centrocampo sono sicuro che purtroppo per le altre squadre sia centrocampo perché vedete cristiano ronaldo è il classico bomber come come l'inter che ha i cardi che fa una catarva di gol e non vince un tubo non arriva nemmeno seconda e non arriva nemmeno terza questa la dice lunga un giocatore che ti fa riparare da quarto posto in giù di top perché lo a sentire loro non ce n'è 110 milioni la stessa prezzo di ronaldo pensate un po pensate un po ingaggi differenti quindi se vi dico questo è perché so che la juventus ha esperienza ha visto dove ha cappellato partite ha sbagliato partite in champions ha visto dove deve intervenire per punto per arrivare a vincere a questa champions ha già preso americano che è un giocatore di questi questi in questa direzione in difesa sicuramente prenderà punte l'era ha messo in porta due portieri che in questo momento nessuna squadra al mondo ha due portieri di quel livello lì guardatevi mondiali guardatevi e poi poi ne parliamo e chi è rimasto a casa quindi si parte dal portiere e lì si è puntellata bisognerà mettere cansello un giocatore che per carità non ha nominato ma in difesa deve migliorare abbiamo anche De Sciglio che secondo me è quello che sa fare meglio lo sa fare dietro cansello davanti quindi quindi sono due giocatori anche se De Sciglio gioca sulla fascia opposta sono due giocatori che abbiamo dato via giocatori come Asamoa che hanno spremuti fino al cervello poi magari farà ancora bene per carità ma se si vuole puntare alla champions devi dare via a questi giocatori abbiamo centrocampo che abbiamo per adesso attenzione perché c'è Betancur che si sta veramente proponendo come top player non è un caso che lo titolo voglia ma con lo titolo lo titolo tienitelo tienitelo te lo tieni coi coglioni girati perché lì non vincete un cazzo te lo tieni coi coglioni girati e vediamo se come l'Inter arriva qualcuno avete visto i cardi che lo vuole nessuno perché i donati inglese i davide e altri cari test di calcio che non siete altro che parlate 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 poi alla fine chi ha ragione lo deve dimostrare coi fatti se nessuno vuole comprare i cardi vuol dire che i cardi non è un campione infatti non vince un cazzo come vi ho detto appena adesso questi sono fatti conclamati sul campo come 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 giocatore sul mercato cosa manca cosa manca cosa manca niente tutto globalmente i cardi dimostrano manco nazionale è andato apriamo una parentesi ci ha guadagnato ci ha guadagnato perché avrebbe scandato i riflettori lo mettevano sul riflettore seduto se vedo un dibalano in guaina in panchina due giocatori che secondo me hanno anche lo stesso messi secondo a mio modesto di parere dibala da oggi è il giocatore numero uno dell'argentina poi starà lui dimostrare se lo vale messi quello della nazionale penso che ci voglia poco comunque su messi a parte a questi 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 paragoni credo che non si discuta allora la juventus prenderà un nome perché ha alzato i biglietti nello stadio ha fatto sta vendendo giocatori sta facendo un bel rabiot potrebbe essere un pezzo da 90 che arriva che arriva da pari san germain rabbio che questi questi sono giocatori che a centrocampo ragazzi è finita è finita per tutti potete comprare anche cristiano ronaldo chi se lo vuole prendere se lo prenda potete prendervi lì con giuice avici pagatelo lo tito tienitelo ciao a tutti